Ciao, bentornato sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. Questo video, come puoi già vedere, lo dedicheremo ad Excel, quindi al corso di Excel e in particolar modo proseguiamo un discorso che avevamo iniziato tempo fa. Nell'esercizio che io ho aperto, qui già sullo schermo, avevamo, nell'ultimo video, inventato un giochino, inventato, creato un giochino, ovvero la possibilità di indovinare un numero tra 1 e 50. Quindi il nostro computer ha pensato un numero, un numero nascosto da qualche parte che noi non vediamo e dobbiamo indovinarlo. Abbiamo 10 tentativi a disposizione, quindi mi posiziono sul tentativo 1 e dico il mio numero. Lui mi dice se è alto o se è basso e 25 è alto, proviamo con un altro numero, 12 è basso e avanti così, finché mi trovo a indovinare il numero. Eccolo qua, che era 14 e quindi mi diceva hai vinto. Bene, questo esercizio qui l'avevamo fatto però su OpenOffice. Quando mi ero ritrovato a girare il video, anziché Excel sul computer, avevo il programma OpenOffice e quindi ho deciso per comodità di farlo con OpenOffice ed è questo che vedi. Quindi alla fine di quel video là eravamo arrivati a questo punto. E qui volevamo proseguire, volevamo fare in modo che il giochino si resettasse da solo, cioè se io volessi giocare nuovamente non dover cancellare manualmente i dati ma far sì che li cancellasse da solo e che da solo pensasse ad un altro numero. Bene, chiudo OpenOffice senza salvare e mi ritroverò sotto varie cose che chiudo e mi ritrovo Excel che ho già preparato aperto prima. Chiaramente essendo un corso Excel molti di voi lo hanno fatto con Excel questo giochino e in diversi mi avete scritto per segnalarmi un problema, ovvero con Excel, con le ultime versioni di Excel questo giochino non riesce, non si riesce a fare, non viene, diventa difficoltoso. Perché? Allora questo è un file che mi avete mandato, ringrazio Livio per avermi mandato questo file per poter verificare la cosa, del giochino fatto da lui. L'impostazione è la stessa, vado sul mio tentativo 1, metto il numero 25, prima che io prima invio, anzi cancelliamo il numero. Io sto per fare il mio tentativo, per comodità, per verificare il funzionamento del gioco qui su Excel, il numero pensato dal computer è questo, questo 11, è stato lasciato visibile per cercare di capire che cosa succede, perché non funziona il gioco, quindi quando poi il giochino sarà finito questo numero verrà nascosto, ma per adesso è visibile ed è generato da una formula, eccolo qua, io mi posiziono sul numero 11 e qua vedo la formula che genera il numero casuale tra 1 e 50, che era quello che ci siamo detti nel video precedente. Bene, vado a pensare un numero, abbiamo detto io parto sempre con 25, mi dice che è basso, qui il numero ora è 42, ma io non lo so e quindi penso a un altro numero, se dunque è basso, ci metto 35, premo invio e mi dice che è alto, il 25 è diventato alto, perché questo malfunzionamento? Perché il computer ha generato nuovamente un altro numero, quindi il numero adesso non è più 42, è 9, se io ne scrivo un altro, nuovamente lui ha rigenerato il numero, quindi anche se le formule sono state impostate correttamente, quindi è tutto impostato correttamente, funziona in maniera corretta, ho il problema che Excel genera il numero tutte le volte che io faccio un tentativo, lui genera un numero diverso e quindi questo rende impossibile giocare al gioco, perché è impossibile indovinare se tutte le volte lui lo ricalcola, mentre in OpenOffice non avevo questo problema, in Excel c'è questo problema, quindi Excel lavora in una maniera diversa, perché ricalcola il numero tutte le volte? Perché il programma Excel è creato per funzionare in questa maniera, tutte le formule collegate tra loro, vengono ricalcolate quando io ne metto in funzione una, quindi in questa cella che vado a selezionare adesso, qua sulla barra delle formule, c'è la formula del se, che era l'oggetto del nostro argomento nel video precedente, c'è la formula del se che viene attivata nel momento in cui questa cella del tentativo numero 5 conterrà un numero, quando questa formula viene attivata, lei è collegata alla cella G6, questo è il collegamento $G$6, quindi questa formula a sua volta chiama in causa la cella G6, che ora vado a selezionare, nella cella G6 non c'è scritto semplicemente il numero 8, ma c'è una formula che dà in questo momento risultato 8, e quindi siccome le due formule sono collegate, anche questa cella viene ricalcolata, per cui mi genera nuovamente un numero casuale tra 1 e 50, quindi è tutta una catena di eventi, io attivo il mio tentativo inserendo un numero, la formula contenuta in questa cella decide se è alto, se è basso, quindi fa la funzione del se e chiama in causa la cella G6, la cella G6 contiene a sua volta un numero, contiene a sua volta una formula che viene messa in funzione e quindi viene nuovamente generato un numero casuale tra 1 e 50, per cui questo numero continua a cambiare rendendo impossibile giocare al gioco perché noi vorremmo che questo numero rimanesse fisso, ma Excel funziona così, non si può cambiare questa cosa, o meglio, si può cambiare un pochino questa cosa andando in questa schermata, nella schermata di gestione delle formule, dove trovo le opzioni di calcolo qui in alto e invece che in automatico io posso dire, senti, manuale, a questo punto quando io vado a inserire un numero questo numero, questo numero non cambia più perché la formula non viene ricalcolata, però il computer non mi dice neanche se questo numero è alto e basso, perché non viene calcolata neanche questa formula qua, quindi impostando le opzioni di calcolo in manuale, semplicemente Excel non fa i conti, non esegue le formule in maniera automatica per vederle eseguire io dovrei dirgli di tornare in automatico o premere una di queste funzioni qui che sono il calcolo al foglio, questo qui adesso fa i calcoli e quindi di nuovo la cosa non mi aiuta perché con le opzioni di calcolo disattivate io scrivo i numeri ma il gioco non funziona e non calcola perché c'è questa funzione? Anche se al momento non ci aiuta, chiediamoci perché c'è questa funzione che cosa succede? Su fogli di calcolo molto complessi, quindi su fogli creati dagli utenti molto grandi, con molti calcoli all'interno, tutte le volte che io vado a interagire e cambiare un numero Excel deve rifare un sacco di calcoli, dovendo rifare un sacco di calcoli, proprio quando sono tanti impiega diversi secondi e quindi io mi trovo tutte le volte a dover aspettare che lui abbia finito questi calcoli per poter proseguire e inserire il numero successivo quindi ci hanno dato questa funzione opzioni di calcolo che posso mettere in manuale, così io scrivo tutti i numeri dei miei conteggi e poi gli dico calcola e lui in quei 10 secondi fa tutti i calcoli, io ho la situazione dei miei conti finale ma generalmente, a parte queste condizioni speciali, si tiene in automatico di modo che io inserisca i miei dati ed Excel faccia i calcoli bene, e quindi noi abbiamo riattivato ti faccio vedere perché intanto parlavo, ho riattivato la funzione automatica e quindi le formule tornano a generarsi da sole queste opzioni di calcolo però non mi aiutano a risolvere il mio problema perché il mio problema è che Excel ricalcola tutte le volte questo numero casuale a me sta bene che lui controlli e calcoli queste formule ma vorrei che bloccasse e non ricalcolasse la cella G6 che è quella dove contiene il mio numero casuale e questa cosa non si riesce a fare perlomeno io non sono riuscito a trovare un'opzione che dica calcola tutto tranne questo ho cercato anche su internet mi pare di aver capito che non si può fare cioè o tutto o niente quindi bisogna ingannarlo dobbiamo usare un altro sistema per bypassare questo problema quindi per far sì che lui fissi la cella G6 e non la calcoli tutte le volte bene e per far questo abbiamo bisogno di altre competenze quindi di competenze maggiori e sono queste allora introduciamo quindi questo era anche argomento della nostra lezione introduciamo le macro le macro che cosa sono? sono una serie di comandi che io eseguo abitualmente manualmente fatte in maniera automatica dal computer cioè io vorrei che il computer premendo un pulsante una combinazione di tasti un tasto sulla tastiera un bottone qua a video mi generasse una serie di comandi che io ho preimpostato quindi che lui facesse delle cose da solo in pratica lo programmo tra virgolette un piccolo programma e lui esegua questo programma allora intanto decido di creare il bottone che andrà premuto per far funzionare questa macro io desidererei creare una macro che mi cancella questi numeri quindi far sì che quando desidero giocare nuovamente al giochino invece di venire qui selezionare cancellare i numeri io abbia a disposizione un bottone cancella premo quello lui cancella rigenera un numero casuale nuovo e ricomincio a giocare quindi intanto posizioniamo il bottone che vorrò utilizzare allora vado nella scheda inserisci dove ci sono tante cose che posso inserire tra cui le forme e qui ci sono un sacco di forme e prendo un bottone e prendo questo qui rettangolo arrotondato e lo disegno qua disegno qua un rettangolo arrotondato eccolo con tasto destro modifica testo ci vado a scrivere cancella benissimo vediamo se ho la possibilità di allora modifica testo di centrare questo testo centrato e anche grassetto perfetto quindi questo per me è diventato un pulsante che servirà a cancellare il mio gioco quindi io vorrò in futuro fare clic su questo pulsante che ora non funziona e vedere cancellate questi numeri questi dati e quindi azzerare il mio gioco per fare una nuova partita bene per fare questo abbiamo detto che utilizziamo delle macro per programmare queste funzioni allora intanto le macro le troviamo dentro visualizza dentro la scheda visualizza macro eccole qua praticamente la macro cos'è? una serie di comandi quindi una programmazione in un linguaggio speciale di Excel che gli permetta di eseguire delle funzioni delle cose che io vorrei che lui facesse però io non sono in grado di programmare Excel non so il linguaggio di programmazione necessario per far funzionare Excel allora c'è questa funzione vado sulla macro c'è la funzione registra macro registra macro cosa vuol dire? che io premo ecco che ho premuto questo pulsante lui mi dice guarda che io adesso registrerò tutto quello che farai da questo momento in poi e lo chiamerò macro 1 nome che io potrei anche variare ma macro 1 mi sta bene gli dico ok e quindi da adesso in poi tutte le operazioni che io vado a fare in Excel vengono registrate dal programma stesso e vengono tradotte in codice in codice di programmazione per Excel per cui lui potrà in un secondo momento eseguirle ad un mio comando quindi abbiamo detto che io voglio cancellare il gioco quindi vado a selezionare tutti i numeri del gioco anche l'ultima casella anche se in questo caso è bianco ammetti che in un altro in un altro frangente io abbia riempito tutti i tentativi quindi seleziono anche l'ultima casella premo il tasto sulla tastiera che serve a cancellare il contenuto delle celle e ho sbagliato il tasto allora premo il tasto che serve a cancellare il contenuto delle celle dato che queste celle non contengono più niente queste altre celle che contenevano la formula del se per capire se era alto e basso si disattivano e si azzerano da sole di conseguenza clicco sul tentativo numero 1 eccolo qui perché voglio che una volta che io ho cancellato il gioco vengano azzerati tutti i numeri e che mi posizioni già sul tentativo numero 1 pronto a giocare e quindi questi sono tutti i comandi che io avevo bisogno di fare per azzerare il mio gioco allora prima di andare a fare dell'altro vado su macro interrompi registrazione così lui ha smesso di registrare tutto quello che faccio e ha salvato la macro 1 all'interno di Excel di questa cartella di lavoro bene allora gioco al mio giochino 34 mettiamo un po' di numeri ho detto 67 da 1 e 50 impossibile che fosse quel numero abbiamo sempre il problema del funzionamento di questo numero che continua a rigenerarsi ma vedremo di risolverlo tra poco proprio grazie alle macro e adesso siamo pronti a far funzionare la macro io vorrei premere cancella e vorrei che lui azzerasse tutto però al momento non funziona non funziona perché questo pulsante creato a questo pulsante creato non è ancora stata assegnata la funzione della macro e lo facciamo adesso tasto destro del mouse sul nostro pulsante c'è la voce assegna macro qui ci sono due macro in funzione due o tre macro in funzione noi registrate in questa cartella una registrata da Livio e una registrata da noi adesso macro 1 è quella che abbiamo registrato noi adesso vado a selezionarla e gli dico ok quindi ora questo pulsante eseguirà la macro 1 nel momento in cui lo premo e tra l'altro quando ci vado sopra vedi che la freccia del mouse diventa una manina che va a premere con l'indice il pulsante lo premo ed ecco che la macro ha eseguito i comandi ha azzerrato tutte le celle si è posizionata nella cella numero 1 dove io posso sparare il mio tentativo 25 ma ho indovinato il primo colpo allora cancello per azzerare fare una nuova partita 12 45 11 e via dicendo e di nuovo posso premere cancella per fare un'altra partita e giocare nuovamente quindi a questo punto il giochino funzionerebbe se non fosse per il problema di questo numero che viene generato tutte le volte che io inserisco un numero impedendomi di fatto di giocare a questo gioco e quindi torniamo al discorso di prima con le macro cercheremo di ingannare il gioco quindi di far sì che questa funzione di Excel che rigenera tutte le formule tra loro collegate non mi dia più fastidio allora che cosa succede succede che riprendendo il discorso di prima che questa cella contiene una formula e siccome è collegata a queste altre celle che devono eseguire una formula per sapere se il numero è alto o è basso o se ho vinto questa formula viene ricalcolata tutte le volte e di conseguenza mi ridà un numero casuale se invece questa cella contenesse solo il numero 33 e non una formula allora non ci sarebbe questo problema perché se contenesse solo il numero 33 il numero 33 è un numero e quindi non verrebbe non verrebbe calcolato però e quindi dovrebbe essere una cosa di questo genere che il computer pensa un numero e lo scrive da qualche parte e quel numero poi lo riscrivo materialmente dovrebbe essere così allora io prendo questa questa cella la copio per comodità faccio tasto destro copia mi posiziono qui fuori tasto destro e incolla bene quindi premo ESC per togliere il tratteggio lì sotto quindi questa cella adesso contiene la stessa formula che c'è che c'è qui sono due celle identiche quindi questa cella ora genera un numero casuale solo che quella non è più collegata vediamo 50 ok entra in funzione lo stesso vediamo eh sì perché tutte le celle va bene questa cella qui fa riferimento a G6 va bene allora questa cella genera un numero casuale se in questa altra cella ci fosse scritto anziché se anziché la formula casuale via dicendo ci fosse scritto il numero 27 27 quindi un numero quindi qui io adesso ho scritto un numero posso giocare col numero 27 perché tutte le volte che io genero una formula di là mi viene ricalcolato ma questo che non è una formula rimane eh rimane fisso rimane il numero 27 per cui se io scrivo 27 mi dice che ho vinto allora cancello il mio gioco con la macro per riprovare bene il numero generato è 10 io trascrivo 10 qua dentro e adesso posso giocare solo che io so già qual è il numero che è 10 e quindi indovino subito se voglio vabbè mettiamo 25 è alto qui continuano a rigenerarsi i numeri ma a noi non interessano perché è questo il nostro numero di interesse metto 12 finché metto 10 e ho vinto ed eccolo qua questa cella qui si rigenera anche se non è fisicamente collegata cioè questa formula qui si rigenera anche se non è fisicamente collegata quindi Excel in questo caso in questo momento sta rigenerando sta ricalcolando tutte le formule del mio foglio anche se non sono collegate tra loro contrariamente a quanto ci siamo detti un attimo fa che avevo letto proprio sulle istruzioni di Excel in questo momento Excel sta ricalcolando tutte le formule del foglio anche se adesso tra questa e queste non c'è un collegamento diretto ma per noi non è un problema noi abbiamo il nostro discorso che abbiamo fatto sì che questa cella contenga il numero 10 che in quanto numero non viene ricalcolato tutte le volte e quindi rimane fisso finché mi dice che ho vinto cancello nuovamente il numero di riferimento è 29 lo vado a trascrivere lì e poi faccio i miei tentativi 12 basso 25 basso 36 alto e finché indovino con 29 ecco l'unico problema è che io questo numero non lo devo conoscere quindi io devo fare sì che quando copio il numero di non conoscerlo e come facciamo a far sì di non conoscerlo utilizziamo le macro e adesso vediamo come allora stiamo per incidere una nuova macro per registrare una nuova macro che cancelli il foglio per azzerare il gioco e al tempo stesso metta qui un numero nuovo per giocare e però deve mettermi un numero casuale non è che devo dirglielo io deve mettermi un numero casuale da 1,50 quindi lo prenderà da qui lo posizionerà qui e questo mi permetterà di giocare facciamolo si fa prima a farlo che non a spiegarlo allora vado sulle macro registro una macro benissimo si chiamerà macro 2 ok bene allora come prima cosa vado ad azzerare i miei numeri e qui si può scegliere l'ordine delle cose si può scegliere a piacere l'ordine delle cose da fargli fare si può scegliere a piacere e dico va bene questo lo so già fare seleziono i miei numeri premo il tasto per cancellare e tutti i miei numeri sono spariti a questo punto non ho più bisogno necessariamente di posizionarmi lì mi posiziono qui sopra sopra il numero 37 perché ora ho azzerato il mio foglio adesso vorrei che questo numero casuale cioè il 37 generato dal computer lo premo venga copiato qui dentro tasto destro copia e in questo momento il computer ha copiato non tanto il numero 37 quanto la formula casuale tra 1 e 50 lo voglio incollare qui dentro al posto del 29 tasto destro e ora io so che devo andare in colla se io premo in colla dove sono posizionato adesso con la freccia lui in colla la formula e quindi in collando una formula questa viene ricalcolata tutte le volte mi ritrovo il problema di prima ma se io mi sposto di una casellina qui a destra dove c'è 1,2,3 lui incolla il valore cioè vuol dire che lui non incolla più la formula cerca e bla bla ma incolla il valore attuale della cella che abbiamo selezionato ovvero questa quindi incolla il numero 37 quindi faccio clic per cui ora in questa cella c'è incollato il numero 37 non la formula che l'ha creato sono sempre sotto macro quindi vado e mi posiziono sul tentativo numero 1 perché è da qui che vorrò partire a giocare e ora termino la macro vado su macro interrompi registrazione e la mia macro è pronta vado sul pulsante per dirgli di non utilizzare più la macro 1 ma la macro numero 2 quella nuova che abbiamo girato allora tasto destro assegna macro macro 2 ok bene clicco in un punto vuoto per cui ora il nostro giochino è pronto io premo cancella per far funzionare la macro e lui mi ha fatto tutto il lavoro mi ha generato questo il numero 34 per cui posso giocare con 35 e alto 12 e basso 34 ho vinto bene cancello di nuovo il numero 35 no prima era il 34 ora il 35 quindi un altro numero casuale fatalità più alto di 1 23 45 12 finché indovino col numero 35 cancello questa volta è il numero 9 quello lavorato e quindi funziona l'unica cosa che mi dà fastidio adesso che lo vedo è questo tratteggio che tutte le volte che io genero una macro mi rimane e quindi non mi piace la vogliamo rifare allora vado su macro registra macro macro numero 3 ok seleziono tutti i miei numeri anche se qui non ce ne sono ma io devo azzerare il foglio premo il tasto per azzerare il foglio che è cancella vado sul numero generato casualmente tasto destro del mouse copio vado sul numero di riferimento per il gioco il numero da indovinare tasto destro del mouse incollo incollo con l'123 solo i valori clic e ora per fare andare via questo tratteggiato premo il tasto ESC sulla tastiera così il tratteggiato se ne va riposiziono il la cella attiva su tentativo 1 pronto per giocare e ora dico che la mia macro è terminata interrompi registrazione bene tasto destro sul pulsante cancella per assegnare la nuova macro assegna macro la numero 3 e dico ok cliccare cancello allora il numero di riferimento è 46 24 34 50 46 ho vinto cancello quindi ora funziona perché non c'è neanche più il tratteggiato che mi dava fastidio quindi ora tecnicamente funziona vediamo se riusciamo a far funzionare esattamente questo gioco adesso l'unica cosa che mi dà fastidio è vedere i numeri quindi per non vedere più i numeri io vado sulla cella in home e cambio il colore questa cella qui è su sfondo su quello sfondo rosa se io al testo do lo stesso punto di rosa dovrebbe essere questo il numero il numero c'è ma non si vede quindi se io clicco su questa cella qua effettivamente c'è il numero 42 questa cella qui desidero riempirla di nulla nessun riempimento e il colore dico bianco così sparisce ecco qua che il mio gioco è pronto per giocare premo cancella così è stato generato un numero che attualmente non vedo e posso effettivamente giocare 25 è alto 12 è basso 18 è basso 20 è basso 22 è basso 24 ho vinto desidero giocare nuovamente premo di nuovo cancella è stato generato ha zerato il foglio è creato un numero casuale spostato in questa posizione qua non li vedo perché sono dello stesso colore dello sfondo e posso giocare di nuovo 25 hai vinto questa volta ho indovinato al primo colpo ultima volta e poi ci salutiamo aspetta che spengo la protezione dei virus qua allora a zero di nuovo il mio foglio parto sempre con 25 alto 12 e hai vinto ecco a questo punto direi che siamo a posto ti ringrazio della pazienza che hai avuto per la visione ti invito a mettere un mi piace se ti è piaciuto a commentarlo a condividerlo e ti do appuntamento a un prossimo video dell'associazione culturale Maggiolina ciao grazie e buona giornata